Ciao a tutti ragazzi, oggi faccio questo video per mostrarvi il regalo che mi ha fatto una mia cara amica per il compleanno che appunto come sapete è stato avantiere, vedete questo bellissimo puff, bellissimo puff richiudibile sapete per mettere la roba poi comunque devo dire che è molto carino perché di pelle, vedete, quadrettato, che io ho impreziosito con un velo che avevo io che è giallo e viola, fa questo doppio colore e questo cuscino giallo sempre che avevo io quindi siccome avevo queste due cose adesso è ancora più carino il puff niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto seppur di solo un minuto però ci tenevo a mostrarvi il regalo di una mia cara amica che appunto mi ha fatto e che ho apprezzato molto ci vediamo domani, ciao!